Partiamo da un assunto. La minaccia non c'è. Nello striscione apparso domenica sera dopo la sconfitta dell'Avellino contro la Virtus Francavilla non c'è la minaccia. Quello che è successo dopo però è altro. Non c'è minaccia nel consigliare spassionatamente a due giornalisti di cambiare mestiere, certamente, ma da lì a scatenare un vero e proprio mare di insulti social ce ne passa. La minaccia di cui a caldo si è parlato, ribadiamo per la terza volta, non è insita nello striscione, sappiamo leggere, sebbene pure nello striscione di qui sopra si capisca ben poco se non nella parte finale. La minaccia affonda radici vecchie, da un mese circa, da quando è accaduto il fattaccio dell'auto di Enzo De Vito, da quando abbiamo scritto fonte diigos che si indagava negli ambienti del tifo, ovviamente non escludendo altre piste. Di lì post, chiacchiere ed insulti saranno tanti gli elementi al vaglio degli inquirenti ai quali sabato sera è stata consegnata una denuncia contro ignoti, con tanta amarezza a dire il vero. Ma è davvero incredibile leggere quello che è stato scritto fin anche sotto i posti di solidarietà dei colleghi dopo quello striscione. Il segno di un malessere generale che permette a chiunque di inveire contro altre persone, re a loro dire, di aver difeso il direttore sportivo e l'allenatore della squadra. Nessuno di questi ha pensato, forse neanche per un momento, semplicemente di cambiare canale o magari di dissentire educatamente. Il piano sul quale si è arrivati è sotto gli occhi di tutti. Vi invitiamo a leggerlo ed è sulla dall'analisi calcistica. Perché forse qualcuno nel marasma generale avrà dimenticato che intanto la squadra perdeva la sua terza partita consecutiva e che né Marco Ingino né Titti Festa sono mai stati visti in campo con divisa e tacchetti. Bisognerebbe ricordare che la massa insieme, schierata contro pochi, ha sempre fatto danni, ma non per le parole in sé, per quello che quelle parole possono scatenare. I nomi citati in quello striscione diventano bersaglio, facile, esposto ed ovviamente numericamente inferiore. Già è accaduto. Basta spulciare i social per capire. È da allora che sia questa un'occasione per fare chiarezza con tutte le componenti dell'ambiente. Che tutti, al di là degli inviti più o meno espliciti, tornino a fare il proprio mestiere, seguendo la linea che legittimamente scelgono, con la libertà di dissentire, di controbattere e dialogare. Sempre però, nei limiti dell'educazione e del rispetto della legge.